Il pacchetto, di pacun, di pacun, i pacchetti, di pacungan, di pacungan, il barattolo, di dosa, di dosa, i barattoli, di dosan, di dosan, il pacco, das pacchetto, das pacchetto, i pacchi, di pacchetto, di pacchetto, le forbici, di schere, di schere, le forbici, di scheren, di scheren, il cavo elettrico, das elektrische kabel, das elektrische kabel, i cavi elettrici, di elektrischen kabel, di elektrischen kabel, il pacchetto, di pacun, di pacun, i pacchetti, di pacungan, di pacungan, il barattolo, di dosa, di dosa, i barattoli, di dosan, di dosan, il pacco, das pacchetto, das pacchetto, i pacchi, di pacchetto, di pacchetto, le forbici, di schere, di schere, le forbici, di scheren, di scheren, il cavo elettrico, das elektrische kabel, das elektrische kabel, i cavi elettrici, di elektrischen kabel, i cavi elettrici, di elektrischen kabel, di elektrischen kabel, il pacchetto, di pacun, di pacun, i pacchetti, di pacungan, di pacungan, il barattolo, di dosa, di dosa, i barattoli, di dosan, di dosan, il pacco, das pacchetto, das pacchetto, i pacchi, di pacchetto, di pacchetto, le forbici, di schere, di schere, le forbici, di scheren, di scheren, il cavo elettrico, das elektrische kabel, i cavi elettrici, di elektrischen kabel, di elektrischen kabel. Grazie a tutti.